Benvenuti al nostro TG Sport, cari amici di Telemolisse. In apertura vogliamo fare davvero gli auguri di buon compleanno, gli auguri più sinceri ad Antonella Tronca, grande amica della nostra redazione sportiva, insegnante di fitness ed organizzatrice insieme della sua famiglia del torneo Madonna del Carmine di Riccia. Ad Antonella, ai genitori Donata e Pierina, la sorella Valentina e il fratello Michele vanno gli auguri più sinceri da parte nostra della redazione sportiva di Telemolisse. Calcio di Serie D in campo per i recuperi del Girone F, mentre vi parliamo Montegiorgio Giulianova, Re Canatese Fiuggi, San Nicolò Notaresco Castelfidardo e Tolentino Olimpia Agnonese. Domenica prossima con la diciassettesima giornata, titoli di coda sul Girone d'Andata, anche se per molti club ci sono diverse gare da recuperare. A proposito del Campobasso e dei suoi due recuperi ancora da disputare, va detto che in mattinata è arrivata la data della trasferta di Tolentino, che sarà mercoledì prossimo, 17 febbraio, proprio in terra marchigiana. Come anticipato ai nostri microfoni dal DS De Angelis del Campobasso, la società si guarda attorno per reperire un altro classe 2002. Da ieri è in prova con il gruppo l'attaccante Giuseppe De Biasi, scuola casertana proprio del 2002. Dopo un breve colloquio con il tecnico Cudini, il ragazzo ha svolto una seduta di allenamento. La società e lo staff stanno compiendo le valutazioni del caso. È chiara la volontà della dirigenza di rimpiazzare il degente caricati e di trovare un coetaneo di vitali proprio nel reparto offensivo. La squadra dunque sta anche trovando delle alternative sul mercato, che rimarrà aperto per le prossime due settimane. I movimenti che sta compiendo il Campobasso, tuttavia, non intaccano minimamente la natura dell'organico. Parliamo per ora di due centrocampisti senior, di un attaccante under possibile ingresso e di sforzini destinato verosimilmente a salutare la maglietta rosso-blu. Il Campobasso si gode, i suoi numeri da primato indiscutibile. Il più tre sul Vomano, che continua a sorprendere per rendimento, potrebbe essere virtualmente un più nove se i rosso-blu dovessero vincere gli altri due recuperi da giocare. Ma non ditelo a Cudini, che non vuole sentir parlare di squadra quasi senza avversari. Le faccio un'ultimissima domanda. La classifica dice che quasi, dico quasi, questo Campobasso non ha rivali. Lei è d'accordo? No, non sono d'accordo perché il Campobasso sta dimostrando di essere una delle forze di questo campionato. Però è talmente ancora lungo che è ancora imprevedibile quello che può succedere con questo tipo di campionato, come abbiamo detto anche qualche settimana fa. Quindi ci portiamo a casa questa classifica in questo momento, però c'è ancora tempo per poterla guardare definitivamente. Quindi dobbiamo ancora dimostrare molto. Il tecnico sta facendo respirare l'aria della prima squadra anche a giovani molisani di belle speranze, cresciuti nelle scuole calcio dei centri di origine, come i giovani 2003 Mancini e Fruscella che a Sant'Elpidio e domenica a Fiuggi rispettivamente hanno potuto provare l'atmosfera legata alla prima squadra. Domenica contro il Pineto, Cudini riavrà Esposito e la solita ampia scelta di Pedine, specialmente nel reparto avanzato. Il vasto Girardi ha preso atto del secondo rinvio di fila contro l'Effe Cimatese, probabilmente un rinvio neanche tanto sgradito a Prosperi che domenica al termine del pareggio di Recanati ha rappresentato quella che per il tecnico è una problematica, giocare domenica, mercoledì e ancora domenica. Ad ogni modo la risposta dei ragazzi di Prosperi finora è stata straordinaria con i 24 punti che allontanano decisamente il vasto Girardi da posizioni scomode di classifica. Domenica in alta quota sarà ospite il Tolentino, anche se la perturbazione che si annuncia sull'intera penisola potrebbe lasciare ipotizzare precipitazioni nevose in alta montagna e dal ridosso del fine settimana. L'inconnita maltempo va tenuta in questo caso in debita considerazione. La società dell'Effe Cimatese ha diramato un comunicato stampa contenente una forte presa di posizione rispetto alla situazione dei contagiati in organico. Ne diamo lettura integrale. È passato quasi un mese dallo stop forzato che ci ha visto essere vittime del Covid-19 con un principio di focolaio che la nostra società ha controllato in maniera esemplare con decisioni fulminee, evitando che lo stesso potesse allargarsi al resto della squadra e soprattutto alle famiglie e agli affetti dei nostri calciatori e staff tecnico. Ora, tuttavia, è il momento di avere coraggio, recita il comunicato. È il momento di riprendere il cammino che abbiamo interrotto il 17 gennaio. Pertanto, la nostra squadra, pur con la quasi certezza di avere cinque calciatori a casa perché ancora positivi, pur avendo la facoltà di continuare a rinviare come previsto dal regolamento, domenica prossima serrerà i ranghi e scenderà in campo. La paura è un qualcosa che non ci appartiene come non appartiene alla gente delle nostre terre. Il lupo è vivo e combatterà come sempre, fino alla fine, il presidente dell'Effe Cimatese, Luigi Rega. Dunque, l'Effe Cimatese, come da comunicato, dopo ben sei rinvii consecutivi di gare, tornerà in campo domenica prossima contro il Rieti. E questa è davvero una buona notizia. Domenica a Fiuggi ha fatto il suo debutto con la maglia del Campobasso il centrocampista Ladu. Pietro Ladu, sei entrato nel fango di Fiuggi. E' stata una battaglia in tutti i sensi questa vinta dal Campobasso. Sì, sì, sì. Sapevamo del campo perché abbiamo visto qualche immagine. Però mi ha impressionato, oltre alla grande qualità tecnica della squadra, anche il saper lottare, il giocare in questi campi difficili. La partita è stata preparata bene, ciò che contava appunto era la vittoria e potevi ottenerla solo così, lottando, perché il campo non ti permetteva di esprimere quel gioco che tutti hanno visto e quindi va benissimo il risultato. È stata un'autentica battaglia, proprio una partita validissima dal punto di vista agonistico. A un certo punto nel secondo tempo era difficile davvero effettuare dei passaggi. Sì, sì, sì. Vabbè, ha fatto i complimenti anche al Fiuggi perché anche loro hanno fatto un'ottima partita. Però secondo me noi abbiamo messo qualcosa in più sulle seconde palle. Anche quando c'era da soffrire tutta la squadra si è messa a disposizione. Secondo me è questo che ha fatto la differenza, perché nel secondo tempo era impraticabile il campo. Però ci sono anche queste partite e va bene così. Sei arrivato da poco a Campobasso, subito due gare ufficiali, subito gettato nella mischia sia contro il Rieti che qui a Fiuggi. Sì, sì, sono contento. Poco tempo proprio per ambientarti. No, no, vabbè, prima di tutto è stato facile ambientarsi perché i ragazzi sono tutte persone per bene, un grandissimo gruppo, un bellissimo ambiente. Io venivo da un piccolo infortunio, quindi era da un po' che non mi allenavo. Adesso sto ritrovando la condizione, quando sarà il caso, quando il mister vuole sarò sempre pronto. Però la differenza l'ha fatta proprio l'accoglienza nel gruppo e è bello, è bello proprio, è bello da vivere. E' rinomato questo gruppo per essere accogliente. Tu sei un sardo di poche o molte parole? No, no, poche parole, poche parole. Non si direbbe. No, non sono uno che parla tanto, parlo poco, però mi faccio sentire quando capita. Il Castelfidardo è reduce dal successo del Civitelle contro l'Olimpia agnonese. Il vice allenatore Passeri ha commentato la gara. Riccardo Passeri, allenatore in seconda del Castelfidardo. Terza vittoria consecutiva contro un Agnone. Avete costruito, diciamo, anche nella prima frazione di gioco, poi il vantaggio è arrivato nella ripresa, ma l'avete comunque sempre tenuta in pugno. Sì, diciamo che la partita l'avevamo preparata così, proprio sapendo le loro caratteristiche e pure le caratteristiche del campo. Grande merito comunque va al di là della preparazione ai ragazzi che stanno costruendo qualcosa di molto importante. Dobbiamo continuare su questa strada. Aspetta solo loro dare continuità e poi ovviamente noi che li alleniamo. Grande merito a loro, grande continuità. Ti aspettavi una settimana del genere contro il vittore, soprattutto dopo la sconfitta sul campo del Vasto Girardi? Diciamo che anche la sconfitta a Vasto Girardi, al di là del punteggio, che è un punteggio bugiardo, diciamo che ci dava morale comunque perché al di là del risultato ci ha dato modo di pensare che il nostro gioco è un gioco che ci porta spesso davanti alla porta, è un gioco dove rischiamo, sì, però le disattenzioni le paghiamo a caro prezzo. Diciamo che ci è servita da lezione, poi evidentemente i risultati sono arrivati e ci troviamo qua. Possiamo dire che avete creato non soltanto con un palleggio ma anche sulle palle aeree, vi siete comunque resi pericolosi. Sì, è vero. Sapevamo che il campo comunque lo permetteva, i nostri centimetri si sono fatti sentire e finalmente abbiamo fatto quello che ci compete, soprattutto in fase realizzativa. Quello che speriamo sempre sulle palle inattive oggi si è concretizzato e anzi, a mio avviso, potevamo anche fare il risultato più pieno, però va bene così. Domenica a Tolentino, primo successo per mister Chiappara sulla panchina della Cinzia Albalonga. Abbiamo raccolto il suo commento. Allora mister, una vittoria importante, rete nel primo tempo e poi partita controllata. Diciamo che abbiamo fatto una prestazione importante dal punto di vista caratteriale perché è stata una settimana dura perché quando c'è un cambio di allenatore i ragazzi possono patire, si possono sentire colpevoli e quindi le richieste possono essere diverse e quindi non è scontato e semplice contrapporsi a una squadra che comunque vedendola giocare con la vastese mi aveva impressionato per intensità, per capabilità, per determinazione. Abbiamo trovato anche un campo pesante, era la terza partita di una settimana e i ragazzi hanno dato delle risposte importanti ma soltanto deve essere un punto di partenza perché siamo ancora molto malati e la strada è lunga. La sua squadra oggi sostanzialmente dopo il gol realizzato ha controllato e poi nel secondo tempo ha avuto anche l'opportunità per poter raddoppiare? Noi abbiamo avuto già nel primo tempo diverse situazioni dove potevamo fare gol, una anche abbastanza clamorosa con Cardillo a tu per tu col portiere e nel secondo tempo abbiamo avuto due o tre situazioni clamorose per soffrire meno nella parte finale che sapevamo ovviamente che gli avversari avrebbero calciato sempre la palla lunga per andare a cercare gli attaccanti. Però complimenti ai ragazzi perché, ripeto, non è facile riadattarsi ascoltare una persona diversa e imparare in fretta con pochi allenamenti sulle gambe. Basket femminile di serie A1 Oggi anche Samantha Ostarello si riaggregherà alla squadra dopo l'appuntamento con la nazionale italiana La molisana Magnolia Campobasso è proiettata al match di domenica contro Sassari con palla a due anticipata alle 17 su precisa richiesta del team isolano Ci è venuto a trovare in redazione il capitano Carolina Sanchez, la Magnolia si prepara al ritorno in campo dopo lo stop per dare spazio alle nazionali C'è tanta voglia di riscattare la battuta d'arresto inaspettata poi è inevitabile dirlo contro Battipaia avete avuto modo pure di analizzare proprio questa gara quali sono state le vostre deduzioni? Sì, noi questa settimana ci stiamo mettendo in testa quello che deve arrivare adesso non possiamo dimenticare la partita contro Battipaia perché quelle sono quelle che dobbiamo ancora sistemare certe cose che abbiamo sbagliato quella partita e niente, lo abbiamo parlato stiamo aspettando pure perché abbiamo finito le ragazze sono partite in nazionale allora penso che questa settimana si comincerà di nuovo a parlare sul fatto che è successo però niente, dobbiamo mettere la testa a Sassari che questa settimana è una partita che dobbiamo vincere per forza e anche tutte quelle che arrivano dopo noi dobbiamo mettere la testa un po' a sistemare tutto quello che abbiamo sbagliato ci sono le partite negative che non escono le cose veramente ci ha dispiaciuto tanto la partita di Battipaia però dobbiamo cominciare a lavorare per quello che deve arrivare adesso Diciamo che ciò che è mancato alla Magnolia è stata un po' di continuità nella qualità delle prestazioni dovuta anche, obiettivamente l'abbiamo già detto tante volte in questa stagione a delle rotazioni molto spesso a scattamento ridotto data da infortuni o qualche assenza Sì, veramente quest'anno è stato un po' difficile dall'inizio la squadra è cambiata completamente ci sono stati giocatrici che se ne sono andate giocatrici infortunate e ancora non finisce l'infortunio Ossarello l'abbiamo avuto con un infortunio alla caviglia molto importante lei doveva stare a posto pure per la nazionale allora ci sono state tante cose che veramente ci hanno portato a stare un po' in questa situazione in campionato però ancora non è finito e dobbiamo lottare fino alla fine ci mancano nove partite e dobbiamo mettere la testa a posto per riuscire a stare al meglio e finire meglio questo secondo girone Arriva Sassari che sarà una gara decisiva in virtù tra l'altro poi di due trasferte Bruni e Bologna Sì, dopo Sassari vengono due partite poi abbiamo sospesa pure Schio che dobbiamo fare in casa qua al 27 allora sono partite toste che ci devono mettere la forza e la grinta per mettere la testa a posto dopo una sconfitta così con Battipaglia però questa vittoria che abbiamo bisogno contro Sassari che abbiamo giocato molto bene là e dobbiamo riuscire qua in casa a mettere tante partite che saranno difficili in questo fine di campionato Un campionato di Serie A che quest'anno ha sicuramente confermato la presenza di tante big ma ha anche messo in luce questo girone quest'anno anche tante ragazze giovani promesse del basket Sì, veramente in tante squadre come Costa anche noi siamo riusciti a mettere anche Blanca Chignone che è questa ragazzina equatoriana che sta prendendo questa esperienza e penso che gli allenatori devono avere questa fiducia di mettere in campo queste ragazzine e penso che è stato un campionato dove sono riuscite tante ragazze giovani che hanno veramente un futuro nella palacanestro e penso che lavorando tantissimo loro lo hanno dimostrato che possono giocare a questo livello Calcio a 5 di Serie A2 sconfitta per il Cus Molise nel recupero della settima giornata l'Atletico Cassano ha vinto al Pala Unimol 3-1 Per il recupero della settima giornata d'andata l'Atletico Cassano espugna il Pala Unimol con il risultato finale di 3-1 superato il CLN Cus Molise che resta al secondo posto in classifica alle spalle del Manfredonia in bilico però la possibilità di arrivare alla Fialan 8 bisognerà a questo punto controllare i risultati dei recuperi naturalmente che chiuderanno il girone d'andata andiamo con la cronaca all'inizio subito padroni di casa taglio per Turek tutto solo sinistro a lato sull'uscita di Di Benedetto corner ospite Juan Perry rullata finta punta destro imparabile per Roman ed è subito 1-0 per l'Atletico Cassano il Cus reagisce 1-2 De Betio Barrichello palla sulla corsa tiro impreciso Barrichello illumina taglio per Turek scivolata del giocatore slovacco che non riesce però ad indirizzare verso la porta nel finale di tempo Cassano in attacco palla per Cutrignelli destro secco traversa e sfera che si impenna prima di terminare fuori finale di tempo ultima occasione per i padroni di casa corner conclusione al volo di Pascal c'è la coordinazione c'è la forza manca leggermente la precisione si chiude così la prima frazione con il montaggio di Alberto Petronti passiamo alla ripresa dobbiamo segnalare comunque un barrichello al 20% della forma tenuto quasi completamente a riposo nel secondo tempo da parte di Sanginario per la cronaca subito Cus Triglia per Dilisio tocco morbido rimpallo per Triglia che però non riesce a trovare il tempo per la battuta a rete Cassano vivo Cutrignelli chiede e ottiene l'1-2 da Alemau Glaser sinistro largo sul secondo palo successivamente Pascal fa tutto da solo ruleta destro secco Di Benedetto risponde ancora protagonista il portiere ospite Turek ci prova da fuori gran botta altra chiusura di Di Benedetto raddoppio ospite Cutrignelli va via sulla sinistra tiro basso Roman non è preciso ed arriva il 2-0 sicuramente un gol evitabile per il Cus Molise Cus in avanti Turek trova la conclusione Di Benedetto risponde poi Dilisio viene anticipato a due passi dal salvataggio di Juan Perri sempre Cus Molise Turek al volo poi Dilisio sulla ribattuta sempre abile l'estremo Pugliese gioco a 5 per Sanginario giro palla sfera per Pascal Grandestro che si spegne in rete per l'1-2 il Cus ci crede ma l'entusiasmo dura davvero poco Cassano di nuovo in gol lancio per Alemau Grazer controllo palla per Caio Pagnussat sfera di ritorno per Alemau che insacca con Roman che si era già tuffato è l'1-3 finale i Cusini ci provano ma non riescono ad accorciare le distanze sabato la squadra di Sanginario sarà di nuovo in campo sempre al Palaunimo questa volta contro il Castelfidardo sabato al Palaunimo arriverà il Castelfidardo l'obiettivo è quello di tornare al successo per la squadra del coach Sanginario niente da fare anche per la Chaminade Campobasso che ieri ha ceduto 10-3 in casa dell'Itria sabato per i ragazzi di Cavaliere Marsella e in programma la difficile trasferta di Molfetta vi ricordiamo anche un appuntamento esattamente quello del ristorante Coriolis in occasione della festa di San Valentino la festa degli innamorati che proprio ci sarà domenica prossima gli chef del Coriolis hanno selezionato un menù romantico e originale da poter degustare sia nella struttura di Ripa Limosani a pranzo ma anche con la possibilità di un pasto da sport in questo caso anche per quel che riguarda la cena previsto un menù adulti e un menù bambini le prenotazioni vanno effettuate entro sabato bene è tutto per questa edizione del nostro TG Sport buon pomeriggio grazie a tutti Grazie a tutti.